arriva Don Antonio. Eccolo. Buongiorno, ciao Don. Pierluigi, com'è il pezzo che non ti senti? Pierluigi, come va? Come? Tutti i giorni ci sentiamo, Don Mazzi? Sì, ma non ti... ti ho trascurato. No, ma io sento la tua mano su di me tutti i giorni. Ma cos'è il nuovo Sanremo, quella canzone di te che avete... No, no, no. Un pezzo del 1997, Don Mazzi. 20 anni, vai con la frase. Va bene, quasi tutti riescono a vedere le cose giuste. Quasi nessuno però riesce a farle. Non so se mi sono spiegato. Va bene, l'avete capita? Chiarissima, Don Mazzi. Ciao, ciao, ciao. Forte e chiaro, Don, grazie. Un abbraccio forte. Domani sarà qui, come sempre. No, guardate. Grazie a tutti.